I prodotti elettrici sono divenuti parte integrante della nostra quotidianità. Ci agevolano nelle azioni di lavoro, illuminazione, pulizia e svago, ma devono rispondere a precisi requisiti in assenza dei quali diventano pericolosi per la nostra salute. La presunzione di conformità e sicurezza di un prodotto elettrico viene soddisfatta nei confronti del consumatore dalla presenza della marcatura CE, i dati di targa, le informazioni e le avvertenze redatti in lingua italiana, nonché i dati per la tracciabilità. L'assenza della marcatura CE o dei dati di targa sono sinonimo di prodotto non conforme e potenzialmente pericoloso, casistica connessa solitamente a prodotti venduti a basso costo senza confezione o privi dei dati del fabbricante. La produzione, l'immissione sul mercato o la distribuzione di materiale elettrico privo delle indicazioni obbligatorie determina responsabilità e sanzioni in ambito amministrativo che possono cadere in ambito penale nel caso di prodotti risultanti effettivamente pericolosi. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Firenze in via Orcania 70 oppure per email all'indirizzo attività.ispettive.fi.camcom.it oppure telefonando allo 055 66 4264 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.